siamo entrati qui nella villa masco la villa incantata si certo amore mo ci facciamo tante tante belle foto guarda come bello guarda ecco la villa incantata cuoricino sei contenta di venire qui a guardare oggi 29 dicembre compleanno mio happy birthday to me adesso sono anche l'inglese nella villa incantata una villa mascolo molto molto grande qui vi troviamo il deserto antartide il dato toccare e calpestare le luci è bello il deserto anzi deserto il suo polo nord ruolo sud ma guarda ci stanno pure i pinguini amore guarda stai tu che sta pescando quello guarda dalle quali sarebbe caprette caprette di fanno cia un pinguino amore pinguino di foto la foto foto di farla e mettere 2019 2022 e poi ci troviamo nel sentiero illuminato per quanto riguarda le nostre luci natalizie no nel sentiero di rinnamorato lo potete trovare sul mio canale insieme alla camerina non l'abbiamo proprio visto fatto proprio i chilometri tutti gli effetti molto carino altro non l'hai vista guarda hanno messo una nuova giostra molto carina per i bimbi lo scivolo lo scivolo con i bucele questo lo voglio andare a fare anche se sono ormai 23 ne lo voglio fare anch'io la luna come si scivola ci sono anche gli elefanti comunque molto è gestita molto bene le luci abbiamo poco tempo per visionare tutto però vedo che è fatta bene ci hanno messo le c'è non è tanto di cioè con tutto che la villa è molto dispersiva riesce comunque a metterti le luci si in tutto in modo molto bene accurato e dovrebbero toglierlo se non mi sbaglio il 6 gennaio dove il 6 gennaio sicuramente quindi l'ultima settimana qui trovate l'elefante ma sono belli non vedi che tiene lì c'è la nostra giraffa che ovviamente non si vede che troppo la giraffa è sempre stata molto illuminata e quindi non si vede mai anzi capisce che cosa il pinguino invece si riesce a capire quando sono meno sistemati coccodrillo ciao foto vicino al coccodrillo no è bello coccodrillo e coccodrillo ok serpente nooo cattivo serpente leone cattivo leone no no il leone è buo vicino a mamma tu amore vicino a mammy guardate qui c'è anche la vipera serpente vipera la vipera è un serpente lo fai amore la vipera non è un serpente guarda ci sono anche i fenicotteri il fungo quello che è bello il fungo ma poi bellissimo che carino carino e coccorroso tod il cigno molto carino peccato l'unico l'unico non fa niente non tagliamastra peccato per l'unica cosa che purtroppo le luci il sabato e la domenica per quanto riguarda le festività perchè il sabato è 31 domenica è uno e purtroppo non viene vista non ci sarà tutta questa roba perchè il 31 è sabato se no dovrei mandare se sta ancora aperto il 6 7 gennaio se ci sta ancora tutto carino un altro funghetto amore ci vogliamo fare la foto vicino al fuoco no è meglio l'ultimo qui invece c'è la palestra delfini ora vicino a noi tu volevi l'orsacchiotto al delfino esatto questo è un polipetto ragazzi qui invece ah c'è anche il cavalluccio oh il delfino quello senza luci viene bene secondo me la fotografia proponiamo? ok proponiamo ho deciso che i fumetti devono essere per natale e Mario parte per comprare ah si già ho deciso già ho deciso si si molto suggestivo allora cara gamerina allora come ti è sembrata la villa incantata? suggestiva suggestiva un'unica un'unica parola un'unico termine che racchiude racchiuderà il nome del video suggestiva grazie a tutti per la visione e alla prossima